Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono Valerio e bentornati sul canale bentornati in un nuovissimo video di vlog allora io sono qua nella cameretta e questo oggetto è super misterioso perchè è una scatola super misteriosa e mi dirlo una volta Valerio ma prima di iniziare dovete iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare un bel like bene iniziamo ok siamo qua e comunque io sto registrando perchè ieri io sto registrando che oggi è domenica 16 ottobre e ieri sabato 15 ottobre i miei e ieri sono arrivati dal Marocco perchè come vi avevo detto c'erano degli shorts che avevo pubblicati pochi giorni fa tipo una settimana fa perchè una settimana erano andati in Marocco in vacanza allora a me ieri hanno portato alcuni souvenir mi hanno portato e invece a me mi hanno portato questa scatola super misteriosa è magica non so come aprire però impareremo insieme sono messina in pigiama vabbè non fateci caso fate che non è successo niente allora il mio piedino sta benissimo ci sono le stampelle le meravigliose stampelle che sono le mie nemiche perchè non sono le mie nemiche saranno le mie amiche vabbè uguale allora intanto lo devo aprire ma come si fa sto robo no ma ieri ho ascoltato di dire che vabbè come si apre così tanto laggiù c'è un problema magari devo levare questi qua questi pizzetti qua due ore dopo ancora io sto aprendo la scatola come non detto ma perchè non si apre allora 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 ma si è aperto ma l'ho richiuso vabbè cos'è sto robo c'è una cosa una chiave tipo una chiave ma che ne so se c'è una chiave non so niente c'è mi fanno pensare che c'è magari 100 milioni di euro magari aveva ragione è una chiave what quindi questo è un oggetto super marocchino perchè quindi chi abita in Africa lo sa già che cosa cosa che cosa vuol dire che cosa chi è che mi segue e sta in marocco lascia like lasciate tutti like e buona domenica anche se non so quando lo pubblico questo video vabbè uguale è appena finito di fare la live quindi devo fare un altro video ok allora cioè questi quali devo cioè che cosa li devo fare devo spingere cioè ma devo aggiungere un codice ma non ci ho capito niente vabbè vale mica una cassaporte vabbè intanto ho trovato questa chiave bellissima ecco come l'ho detto mi è caduta mi è caduta mia ok è caduta mia dai dai ok quindi questa è la mia chiave e quindi e quindi ma vabbè lasciamo sta allora ho già trovato bisogna arrivare a questo e poi poi devo la chiave aiuto mi sa che non l'ho aperta devo guardare la volta parte forse monete è che è che mi sono accaduti guardate un po' guardate che belli sono di sono di marocchini e tipo la stellina africana ma io non ne so niente di questo coso quindi intanto allora intanto lo devo dovrò chiudere di sicuro perché vabbè ragazzi se vi è piaciuto lasciando un bel like ci vediamo al prossimo video ciao